Ciao a tutti dalla vostra amica Reddix, oggi siamo su FIFA, questa è la mia squadra, andiamo e speriamo bene, ti prego una partita con la banca, fuori casa con il Barcellona, muovedi mi spiacciono, mi spiacciono, me lo sento, me lo sento, me lo sento, 84 cento, benzema, e te pare io mannaggia, una prestazione convincente da parte dei loro giocatori, è possibilmente una vittoria, corri carriera, aspetta fermati, passa da lui, vai, 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 tira, tira il gol, no, no, mannaggia, no, 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 ripassa dai, forza che c'è, dai, dai, Gomez, ritirare, no, Gomez, 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 crossala, no, niente, dai raga, forza, no, meno male, vedo che la fallo, Gigi, Gigi, un accidente, il Barbo, il Barbo, ricorre, il Barbo, il Corri, 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 sì, Gigi Silva, cioè, no, dai, prendila, prendila, passala, bravissimo, ripassala, ripassala, di tirare, tira la Fogu, come tira, no, mannaggia, calcio d'angolo, palla sul fondo, sarà calcio d'angolo, allora, vai, gol, 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 mannaggia, prendila, bravissimo, Ebra, bravissimo, Ebra, Ebra, devi passare a mezzo, tira, no, questo ho combinato, non male che si è fermato quel tizio, passala veloce, passa Gervinio, Gervinio, salvala, brava Gervinio, vai Gervinio, vai Gervinio, vai Gervinio, oh, con le mozzarella, vai, fermati, tira, tira, no, mannaggia, dai, lo sapevo, Benzema è drogato in sto gioco, Benzema, mamma mia, Benzema è un giocatore bagato forte, eccola, 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 go della merda, go della merda, go della merda, madote è culo, caccio d'angolo per Iniesta, dai, no, di testa, e vaffanculo, e vaffanculo, e vaffanculo, e così, con le mani tra i capelli, gol, che rischia, ma ho fatto tutto, io ho fatto fino a no, c'è ancora tempo per recuperare, veloci, splendido l'assist, splendido il tiro, vaffanculo, va, grande finalizzazione, nessuna speranza, dai, si vede, vedi, ma di pesa loro sono 10.000, vaffanculo, pure i calci d'angolo di merda, c'è nessuna, di cazzo passo, c'è il pareggio, il pareggio, il pareggio, sì, Giuseppe Leon, rimane aperto la partita, Wario non è aperto la partita, abbiamo in divisione 2, dobbiamo andare in divisione 2, cacchio, è tutto pronto, comincia il secondo tempo, forza, ok, il barbo, il barbo, vai barbo, fuori, eh, fuori mio, passo la veloce, vai turbe, i turbe, i turbe, fermati turbe, i turbe, i turbe, no, ce l'ha fatta, mannaggia, mannaggia, a posto, i passaggi sono sempre i migliori, ma guarda, 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 eh, non ci arriva, ti prego, ti prego, eh, vaffanculo, no, 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 eh, dai, no, non è, ok, De Rossi, ma perché l'hai passato a quello, mannaggia, ma io credo dovevano avere sa cazzo di partita, allora, eh, dai, non ci credo, cioè, gliela passo io, gliela passo la palla, gliela passo io la Cervini, madonna, e da che era una bellissima giocata, come l'ha fatta a leggere, eh, cerchiamo di buttarla giù, così, non può se esce, no, David Silva, ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo, eh, vaffanculo di nuovo, eh, sì, non riescono a passare, vai, cioè, i difensori, velocissima le fasce, mannaggia, ma, va, 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 quei cazzoni di giallo di Alba, vaffanculo, non schiatta di diarrea, vaffanculo, eh, vuoi che muo... ecco, eh, lo so, si riverseranno in avanti per cercare la rete decisiva. Niente, niente, guarda quanto è veloce, guarda, 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 eh, vabbè, ma mi passi la palla così, grazie a cacchio che la pigliano, eh, sì, muo corre, ne credo, vuoi vedere, va, va, eh, sì, vabbè, i miei giocatori vanno a lumache e gli altri corrono, va bene, sì, vabbè, dai, fai il gol, gol, lo sapevo, cioè, ma dai, ma come si fa, come si fa a far gol così, ma vaffanculo, ma veramente, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, tutti quanti, ma che cacchio che non se lo meritava proprio di vincere questa partita, questo qua, ma dai, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma, ma che cacchio, un benzema drogato, un benzema drogato, è un benzema drogato quello, è normale, no, è normale che a me, e dai, 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 vaffanculo, ma, iniesta, cioè, ma non ho parole, non ho parole, guarda, e finisce dunque la gara sul risultato di 2 a 1, ma non ho parole proprio, noi va buona, rimaniamo indivisione tra anche stavolta, meno male che la salvezza, a me non ce l'avevamo, meno male che la salvezza ce l'avevamo, non ho parole, E va bene, amici, per oggi teniamo qui FIFA, e va bene, amici, per oggi è tutto, alla prossima buonata di FIFA, si ricomincerà dalla terza divisione, speriamo che questa volta riusciamo a arrivare in seconda divisione, Ah, che fatica, bye bye!